Uomo, conosci te stesso e divieni Dio. Si tratta di una parte del canone di Torino. I seguaci di Orus. Purtroppo manca il frammento più importante. Dovresti andare a Torino. La chiave ricomposta potrebbe svelare inopportune sorprese. Qui dentro c'è un documento che menziona il nostro manoscritto. Dammi la chiave. La chiave! La chiave! Loro possono arrivare ovunque. Niente e nessuno può fermarli. Loro, loro, chi sono loro? Mi chiamo Arthur. Arthur Adams. Sono un ricercatore inglese. Sto raccogliendo informazioni su un antico manoscritto. Sto raccogliendo informazioni su un antico manoscritto.